Ha chiuso i battenti all'inizio del 2021 il centro sociale d'Ordoni di Via Mantova e da allora non si è mosso nulla per i locali di quella che è stata una presenza non sempre comoda, una convivenza con la città che si è definitivamente incrinata nel gennaio del 2015 con quel sabato di guerriglia urbana che ha messo sotto scacco la città. Una ferita che è stata difficile da rimarginare per cui si dovrebbe voltare pagina. I locali infatti sono vuoti. È tornato in proprietà al comune che potrebbe e dovrebbe comunque ristrutturarlo e farlo fruire alla cittadinanza. È un locale che è abbastanza ampio e potrebbe appunto essere ristrutturato, messo a norma e donato per varie attività che si potrebbero svolgere in quel luogo che è comunque vicino al centro storico quindi è un'opportunità per Cremona. Potrebbe diventare un punto d'aggregazione per giovani sempre alla ricerca di spazi di socializzazione che proprio recentemente hanno sottolineato questa necessità in biblioteca, lamentando la scarsità di spazi anche per studiare, ma le soluzioni potrebbero essere anche altre. Anche per gli anziani o anche per i cittadini che magari potrebbero usufruirlo per varie associazioni o comunque incontro tra di loro, quindi è una cosa fondamentale riuscire a ristrutturarla. Il comune ad oggi però non si è fatto vivo e lo lascia così al degrado più assoluto. Il nodo potrebbe essere proprio la spesa. Nel piano delle alienazioni non c'è questo sito, questo luogo e comunque bisognerebbe o trovare i fondi, e quindi proporre un progetto per poterlo riqualificare e darlo alla città. Recuperare così un angolo di città trascurato. Ad oggi ci sono ancora le scritte sui muri dei murales che sono poco belli, diciamo, anche per la zona che comunque è vicino anche ad una clinica e delle attività commerciali.